C'è buono. È stato accolto con grande entusiasmo e quindi le cose stanno molto bene. Noi siamo molto contenti del T.Y.P. e noi siamo molto contenti di comprare la gente di T.Y.P. Non abbiamo nessun luogo, ma non abbiamo nessun luogo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, fortunatamente per l'esperienza che ho nel calcio di 50 anni credo che sappia riconoscere il bravo, e almeno bravo. Mi sembra abbastanza ovvio, è stato il mio mistero per tutta la vita. Quindi c'è da dire che la cosa più difficile è intravedere quello che potrà essere per questo ragazzo fra 3-4 anni, non solo adesso che si vede subito quando uno è bravo. Invece la bravura è cercare di trovare e intravedere quello che può essere di un ragazzo che è magari meno adesso. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.